Direi che è estremamente positivo, almeno i ritorni feedback che abbiamo avuto sono positivi sia da parte dei cittadini che da parte degli operatori. Ci sono ancora alcune criticità che riguardano alcune vie sulle quali dovremmo intervenire con degli spostamenti veramente molto molto banali, mentre su alcune criticità che sono state rilevate lunedì scorso siamo già riusciti in questa settimana a risolvere il problema. Quindi sostanzialmente io devo anche ringraziare tutte le strutture comunali perché hanno collaborato attivamente per la buona riuscita dello spostamento del mercato. Abbiamo implementato il numero dei parcheggi per i disabili, fermo restando che andremo ora ad individuare direttamente su ogni stallo il numero del cartello dei disabili perché vogliamo che coloro che erano in possesso di un parcheggio riservato in quanto disabili trovino all'interno dei nuovi stalli una disponibilità.